Centro, 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 centro. 0-1. Marco, me lo prendi il telefono scuola, se no non ci faccio ricordare i punti. Questa palla. Centro. Grazie. Linea, linea, niente. 0-2. Stai guardando di qua, comunque si è contato come se fosse scogliato, se ne ho avvoltato. Su, basta, su, basta. Linea. Dai, dai, dai. 1-3. Sì, sì. Solo l'ombra. Uno, quattro. Centro. Viene adesso. App. Fine, setro. Allora, l'intercinta cambia. Sì. Anche. Doppio in palleggio. Due, cinque. Ma se ti viene addosso non puoi fare niente. Basta. Non puoi fare niente. Apri, 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 apri. Sì, sì. Sì. Due, sei. Tre, sette. Tre, sette. Matteo. Tu per Alberto. Palla. Palla. Che vomito di alzata in palleggio. Evita di fare queste porcate sul mio campo, grazie. Fallo in tutti gli altri ma non sul mio. Uno. Uno su due. Sei linea, sei linea. Uno su tre. Uno su quattro. Uno su quattro. Due su cinque. Due su sette. Due su sette. Cambio corte. Andiamo. Sì, grazie a te. Grazie. Bravo. Se mi chiami appi, quindi vedi a me. Uno. Troppo subare. Quattro. Lì, linea, linea. Perfetto. Due. Bravo. Sì, guarda. Linea. Bravo, Fred. Cazzo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo. Tre. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Sì, guarda. Linea, niente. Tre su quattro. Buono, buono, va bene, va bene. Mi prendiamo, basta, 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 basta. Scusa, scusa, scusa. Tre su cinque. Bravo. Vieni. Dai, dai. Vieni. Vincita a te. Linea. Vieni. Linea. Vieni, grazie, grazie. Tre su sei. Vieni, via. Tre su sette, palloni. Koroni per Fresia. Tanto, per tutto. L'uomo. Ci hanno costruito. L'ho prolungato invece che l'avete in una tenuta per sì. trovo buono siamo venuti bene abbiamo perso un attimo questa centro 0-1 centro 0-2 centro 0-3 0-4 ci poteva stare centro 1-5 1-6 guardate che sono gli ultimi persone anche il tramuro ma non mi hanno le sue statistiche oh no centro linea linea doppi in palleggio guerra 2-7 linea 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 0-1 incredibile ci sono un po' trappi i tocchi però signori per il resto è tutto giusto 0-2 eh beh insomma la truccata lui dovrebbe sapere più o meno però ci sta che non ci siano le regole dover valore in pausa sono cose che possono capitare linea linea niente bravo 1-3 via la spuntacca via la spuntacca si fatta corpo all'indietro mentre vai indietro col braccio basso impossibile da far passare piazza lunga 1-4 lì lunga 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 2-5 3-6 3-7 guarda per fresia 1-4 1-4 è un frasi a per lungo l'uscita ecco anche per largo forse più per largo 1 centro 2 2-5 scusa eh non l'ho capita eh non me lo fa la lunga prossima non l'ho proprio capita giuro 2-3 2-3 2-3 andiamo addio oh peccato 3-4 3-4 centro con le gambe secche l'inghio di più 4-5 4-5 centro centro sempre davanti a te arriva 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 sì 4-6 ultima chance dopo il palleggio 4-7 l'inghio di più l'inghio di più